Dopo l'arresto di Leandro Greco a prendere le redini del mandamento di Ciaculli è stato il cugino Giuseppe Greco, detto il senatore, che ha stretto rapporti con i clan di Brancaccio, Roccella e Corso dei Mille. Un dominio sul quartiere che proviene direttamente allo storico boss Michele Greco, detto il papa, nonno di Leandro e prozio di Giuseppe. Il braccio destro del boss è Ignazio Ingrassia, detto il boiacane. Per la famiglia di Brancaccio spicca i nomi di Girolamo Celesia e Filippo Marcello Tutino. Celesia riuniva gli esponenti della cosca e si interfacciava anche con il greco di Ciaculli, coordinando attività di spaccio ed estorsioni. Tutino dispensava indicazioni su come comportarsi con le vittime delle estorsioni. Tra gli esattori della famiglia di Brancaccio figura anche Gaspare San Severino. C'è poi Giuseppe Caserta, scarcerato poco meno di due mesi fa e subito tornato ad occupare un ruolo di rilievo nelle gerarchie di Brancaccio. Si tratta di una delle organizzazioni della città di Palermo più agguerrite e storiche che abbiamo contrastato con indagini di natura tradizionale, individuato il capo del mandamento, i suoi fiancheggiatori e le attività estorsive che svolgevano sulla città, anche le relazioni con le altre famiglie del mandamento e con organizzazioni extra nazionali, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Un ulteriore colpo a Cosa Nostra che sottolinea la volontà dell'arma di non dare tregua.